The Greatest Showman non fa schifo, cioè un pochino sì, però no, non fa schifo, non me la sentirei mai di dire che fa schifo. The Greatest Showman non fa schifo. Ma... E iniziamo a vedere il film. Ottima la musica, intensa, potente, evocatrice, magnifica, fotografia bellissima, lui si muove nascosto, la luce filtrata dagli spalti del cerco, bellissimo. E poi effettivamente Hugh Jackman canta molto... Che cos'è quello? Non è un cavallo! Che cosa mi rappresenta? Guardalo, sembra uscito da Toy Story! Cioè... Questo non va in questo film, che c'è sempre un ma! In ogni scena c'è qualcosa di bellissimo e qualcosa di indecente. Un personaggio deve cantare? No, ci deve essere una nota stonata! Oppure deve essere doppiato! Oppure ci deve essere un elefante in CGI! E effettivamente ogni coreografia in questo film è perfetta. Va detto. Cioè, guardate come tutti fanno esattamente quello che devono. E si muovono coordinati, rendendo al meglio ogni... Che cosa sta facendo lui? Ma... ma è mai parte del cast? Cioè, guardalo come si muove disorientato! Guardalo! Poverino! Aiutatelo! Cioè, lo hanno messo su di trampoli e poi gli hanno detto così. Balla! Segui un po' gli altri, agita un po' le braccia, cerca di passare inosservato e andrà tutto bene! Guardalo! Ha paura, poverino! Aiutatelo sul serio! Dai, il film ha un paio di difetti, ma certe sequenze sono formidabili. Intere scene indimenticabili che vanno amate. Pensate alla canzone This Is Me, cantata come un grido disperato di una donna barbuta appena rifiutata all'ennesima volta. Conosco bene l'oscurità. La cantante ha pianto quando l'ha cantata. Questo è un vero e proprio canto di speranza con una potenza devastante. Una scena perfetta, gestita perfettamente, iconica, ma... è anche l'unica canzone sul tema della diversità. I protagonisti sono quattro top model da copertina, anzi cinque. E i membri del circo hanno un ruolo estremamente secondario. Cantano una e una sola canzone e più di metà di loro non ha nemmeno un primo piano. Alla fine, con O Senza Circo, il film parla di una storia normale. Di un uomo che non sa se tradire la moglie o no. Di un ragazzo che deve trovare la forza di sposare una donna mulatta. Senza dubbio è una bellissima trama. Peccato che P.T. Barnum fosse una persona reale. E che questo film è un film sulla sua vita, che porta il suo nome, il nome del suo spettacolo. E in realtà tutto quello che vedete nel film non è mai minimamente successo. Insomma, è come se facessero un film su Hitler e poi vi presentassero un cuoco che si chiama Hitler che vuole fare i biscotti all'interno della seconda guerra mondiale. E siete lì a chiedervi, ma perché chiamarlo Hitler allora? Sapete, a volte, dopo tutto, la vita è noiosa. E in un film, se la vita è noiosa, è meglio inventarsi una storia bella da raccontare. E ok, va bene. Ma allora ascoltate un attimo me. Vi presento la storia vera di questo film. La storia che questo film ha deciso di non raccontare. Vi presento il racconto del più grande spettacolo del mondo. P.T. Barnum nacque nel 1810 negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che erano quelli della nascita della locomotiva, in pieno vecchio West. E quando Barnum lavorò come garzone in un negozio, capitò che dovesse liberarsi di decine di bottiglie inutili. Erano solo spazzatura. Non potevano servire davvero a niente nessuno, non esisteva riciclaggio o altro del genere. Ma Barnum le mise come premio di consolazione per una lotteria. Il biglietto costava più di una bottiglia e lui guadagnò un sacco di soldi. Era un imbroglio. Un imbroglio bello e buono, visto che non tutti vincevano una bottiglia. E che quindi chi riceveva questo premio di consolazione in realtà pensava di aver vinto qualcosa, ma aveva solo buttato i vedi soldi per avere della spazzatura. Cioè, pensate a un personaggio del genere e portatelo all'ennesima potenza. Pensate, P.T. Barnum pubblicò un giornale. E divenne anche molto seguito, ma ingigantiva un po' le cose, esagerando la verità. E per questo alla fine finì in prigione. Dalla sua cella continuò a pubblicare il giornale, parlando di se stesso come di un piccolo povero uomo, ingiustamente recluso, e convinse un sacco di gente a liberarlo. E fu effettivamente liberato dalla prigione! Sul serio! Fecero una manifestazione per liberare un colpevole dalla prigione! E non esagero! Cercò di diventare il cazzo di presidente degli Stati Uniti! P.T. Barnum era povero. Povero come pochissimi. Amava inventare piccole bugie per rendere la sua triste vita un tantino più interessante, usando giochi di luce, racconti affascinanti. E così, da adulto, decise di creare un museo dell'assurdo. Ma nessuno voleva vedere elefanti impagliati, oggetti in teche. Così rese il museo un po' più vivo. La frase preferita di Barnum, che appunto nel film non appare, beh, era che ogni minuto nasce un idiota. E l'idiota è lo spettatore. Nel suo museo, che poi sarebbe diventato un circo, c'era una stanza, sulla cui porta c'era scritto da questa parte per la sortita. E i visitatori, non sapendo che sortita significasse uscita, lasciavano il museo e dovevano pagare di nuovo il biglietto per rientrare. P.T. Barnum, nel suo museo, aveva una sirena. No, non aveva importanza che fosse reale. Per lui l'importante era la meraviglia dello spettatore. L'elefante più grande del mondo. E lo era davvero. Certo, Barnum aveva ucciso, anzi sterminato, tutti quelli più grossi. E aveva preso quell'elefante, deportato in America, e che è messo in un circo dove nessuno aveva mai visto un elefante o un generale o un animale così grosso. L'uomo più basso del mondo. Solo che aveva quattro anni. La tata di George Washington. Ancora viva, alla veneranda età di 161 anni. In realtà era una qualsiasi schiava nera, che sembrava vecchia a causa del lavoro, stancante. Ma chi poteva sapere la verità? Potevi dimostrarlo tu che non era lei la tata di George Washington? Automi e meraviglie meccaniche. Barnum mise le lampadine nel suo circo, rubandola a Edison due anni prima del brevetto. Immaginate il pubblico che aveva visto per tutta la sua vita candele. I loro antenati avevano visto candele, tutti hanno sempre avuto candele, e all'improvviso nel circo di Barnum c'erano le lampadine. Una magia. P.T. Barnum aveva un licantropo. Un licantropo, un uomo lupo. Aveva vampiri, fantasmi, gemelli siamesi, un satanasso arrivato direttamente dagli imperi, zebre, leoni, animali che oggi sono estinti. La più grande cantante dell'epoca cantava per lui. Così come Madame Clofuglia, la donna barbuta o Elie Bowen, l'atleta senza gambe. Ma c'era anche l'uomo più grasso del mondo, ovviamente con imbottiture, e rapì uomini e donne di colore in Africa per esibirli nel circo. Raccolse ogni persona con deformità che trovava. Non dimenticate che prima di Barnum le persone deformi venivano uccise o nascoste. E diciamo che essere parte dello spettacolo era la migliore delle opzioni, per quanto fosse disumano. Barnum aveva praticamente inventato il circo, come lo intendiamo oggi. Un mistificatore che creò il più grande spettacolo di tutti i tempi. Barnum mise da parte la sua famiglia. Dopo la morte della prima moglie si risposò subito e non andò mai in pensione. Tutto quello che vedete nel film è una bugia. Il suo fu ufficialmente il più grande spettacolo del mondo e dedicò la vita solo a questo. Venne a vederlo pure lo zar di Russia, così come la regina Vittoria e tutti i grandi dell'epoca. Infatti prometteva il più grande spettacolo del mondo e vendette autobiografie piene di bugie o fatti criticabili solo per far parlare di sé. Entrò anche in politica e combatté contro lo schiavismo. Ma passando da destra a sinistra o a destra quando voleva, riuscì a creare una pubblicità enorme intorno al suo spettacolo. La sua faccia finì pure sulle monete da 50 centesimi. Il film Dumbo è stato pensato proprio sugli spettacoli di Barnum e del suo elefante che guarda caso si chiamava Jumbo. A proposito di Jumbo, Barnum raccontò di come Jumbo, il grande elefante una sera dopo lo spettacolo vide un cucciolo del circo, un piccolo elefantino chiamato Tom Zamb che attraversava le rotaie e sentendo il pericolo dell'arrivo del treno l'elefante Jumbo si era sacrificato per salvarlo. E così come Jumbo era morto da eroe e mentre i giornali raccontavano la commovente storia dell'elefante Jumbo la verità era che era morto attraversando i binari da solo perché era stupido era un elefante non sapeva cosa fosse un treno. E ogni parte del corpo di questo pachiderma venne venduta separatamente a persone diverse e la biografia di Barnum con la piena di bugia alla fine fu il secondo libro più venduto dopo la Bibbia. Barnum era più famoso di Harry Potter. Solo alcune delle meraviglie di Barnum erano false rendendo più difficile capire quali fossero reali o meno. c'era l'uomo pietrificato che si parlava di giganti prima del diluvio universale c'era anche un bambino un neonato che non cresceva mai anche se in realtà ogni anno veniva sostituito. Più il circo di Barnum e Bailey diventava famoso più le persone deformi o con una certa abilità cercavano di entrare all'interno del suo circo. Qui nacquero i domatori di leoni o i clown e il circo influenzò il mondo diffondendo le tigri e i cobra più di quanto facessero gli zoo. Barnum imbrogliò al mondo intero con delle balle così grandi da essere le più grandi mai state raccontate tant'è vero che si parla di effetto Barnum proprio a livello di dizionario e per lui l'emozione e il batticuore che restavano per giorni interi dopo lo spettacolo erano più importanti rispetto alla verità. Da un lato fu una grandissima opportunità per persone rifiutate dal mondo e fare una sorta di passo avanti verso l'accettazione del diverso come qualcosa da vedere e da ammirare anche se non come lo intendiamo oggi. Si può parlare di un disastro ambientale di una lunga storia di deportazioni ma anche una storia di grandi meraviglie che hanno cambiato la vita a piccoli contadini analfabeti che non avevano i soldi per il teatro o l'intrattenimento ma li avevano per il circo. Si può parlare per ore di questa storia ma il film ha deciso di raccontare due storie d'amore mai avvenute e accennare a un paio di tutte le cose che ho nominato. Insomma questo film è davvero degno del più grande spettacolo del mondo?